La Galleria Umberto I ha un passo dalla svolta con l'intesa tra comune, prefettura, enti pubblici e privati cittadini per salvare il monumento dall'incuria e dal degrado che la tanagliano ormai da tanto o troppo tempo. L'accordo predispone interventi mirati alla riqualificazione e alla sicurezza, con il rafforzamento degli impianti di videosorveglianza e la vigilanza notturna. Coinvolti quindi anche la sovrintendenza, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Unione Industriale, la Camera di Commercio e altre associazioni di categoria, dall'Aicas a Confcommercio a Confesercenti, tutte sigle che rappresentano il commercio e le piccole imprese che dovrebbero rifiorire anche grazie a una maggiore vivibilità della galleria. E poi c'è Banca Intesa San Paolo, pronta a contribuire alla riqualificazione e alla valorizzazione dei centri urbani storici che da poco ha inaugurato nella sede storica del Banco di Napoli a Via Toledo le nuove gallerie d'Italia di Napoli. Ma non è tutto. Il processo di riqualificazione urbana che oggi interessa la mastodontica opera architettonica inaugurata nel 1890, la galleria per l'appunto, dovrebbe proseguire secondo la tabella di marcia della Prefettura con la riqualificazione di Piazza del Clebiscito a settembre e in particolare con il recupero del porticato della Chiesa di San Francesco di Paola.